Anno nuovo e continuiamo con la nostra serie di video. Dai vostri feedback mi pare di capire che siano interessanti e quindi continuiamo sulla falsariga di quello che abbiamo iniziato lo scorso anno. Questa volta vi voglio parlare di come funzionano le pompe centrifughe. Le pompe centrifughe sono delle macchine idrauliche che servono tipicamente per spostare liquidi. Il funzionamento delle pompe centrifughe è indifferente che si tratti di pompare acqua, olio o qualsiasi altro tipo di fluido. In sostanza è una tipologia di pompa rotativa che può essere accoppiata direttamente con motore, accoppiata tramite un giunto, in ogni caso costruita con diverse tipologie di materiali, ma non mi interessa entrare in questi dettagli. Mi interessa proprio parlare di come funziona fisicamente una pompa centrifuga. Questo perché? Perché molto spesso ci vengono fatte delle domande sul funzionamento di queste pompe, ovvero come deve funzionare una pompa per essere in curva, ovvero funzionare in modo corretto. Se guardiamo una curva di funzionamento tipica di una pompa centrifuga, per semplicità qui prenderemo una curva di una pompa per acqua, ma può essere applicabile a qualsiasi tipo di fluido noi andiamo a pompare. Come potete vedere varia la portata e la prevalenza, quindi la pressione massima e minima fornibile dalla pompa centrifuga in funzione della portata e viceversa. Diciamo che i due valori sono più o meno inversamente proporzionali. A massima portata corrisponde la minima pressione, viceversa la massima pressione corrisponde alla minima portata, fino ad arrivare a una pressione massima della pompa che avremo quando abbiamo la bocca completamente chiusa, ovvero chiudiamo completamente la mandata della pompa. Molto spesso i nostri clienti ci dicono ah c'è la pompa che fa molto sforzo perché sta spingendo l'acqua con una pressione molto elevata. Ebbene andiamo a guardare a questo punto la curva dell'assorbimento del motore elettrico della pompa. Come potete vedere l'assorbimento elettrico del motore della pompa è esattamente inverso alla pressione della pompa, alla pressione che viene generata dalla pompa, ovvero alla massima pressione noi vediamo che abbiamo il minimo assorbimento elettrico. Viceversa quando abbiamo la pressione minima abbiamo il massimo assorbimento, perché la pompa centrifuga come si comporta? Quando abbiamo la minima pressione la pompa sta spostando la massima portata di acqua, quindi il massimo peso, i massimi chili ora di acqua che riesce a spostare. E questo provoca ovviamente il maggior assorbimento del motore. Il motore consuma più corrente elettrica perché fa più fatica. Per come è fatta la pompa centrifuga, quando sposta molta più acqua con poca prevalenza consuma molta più energia, fa molta più fatica. È un po' come se noi stessi dovessimo trasportare un grosso peso per uno spazio molto corto, ma quel grosso peso ci fa spendere molta fatica. Ora cosa accade? Se noi non limitiamo questo decremento di pressione, lasciamo lavorare la pompa a bocca libera, addirittura andremo a lavorare fuori curva e otterremo l'intervento termico a protezione del motore della pompa. Questo perché? Perché in sostanza la pompa centrifuga, mentre ha una limitazione verso l'alto, ovvero oltre una certa pressione non può andare, se non la bocca chiusa, ma comunque non può superare quella pressione, verso il basso a livello di portata può trasportare molta più acqua di quella per cui è stato disegnato il motore elettrico. E questo comporta una sollecitazione fuori curva, chiamiamola proprio così, fuori curva del motore elettrico che va ad assorbire molta più energia elettrica e interviene la protezione termica del motore, altrimenti il motore ovviamente si brucia. Porto spesso questo esempio, è come se noi su un ape piaggio dovessimo caricare il carico di un tir. In pratica magari a livello di peso ce la fa anche a trasportarlo, ma nel momento in cui lo sposta di un metro si sfonda perché mentre ce la può fare come peso il motore non riesce a trascinarlo. Questo è un po' se vogliamo una spiegazione empirica di quello che può succedere a una pompa centrifuga quando lavora a bocca libera, quindi fuori curva. Per ovviare a questo inconveniente solitamente noi montiamo sui nostri impianti una saracinesca in mandata che in caso non ci siano delle perdite di carico a valle della pompa che facciano rientrare la pompa in curva, strozzeremo, ovvero andremo a chiudere un po' la saracinesca in mandata per far aumentare la pressione e quindi far lavorare la pompa con la portata di acqua corretta e di progetto in modo che il motore non vada fuori cura. Spero di essere stato chiaro, se non fosse così mettetemi pure dei commenti al video che vedrò di rispondervi in modo più chiaro. Grazie e ci vediamo al prossimo video!